Ora va bene, innanzitutto grazie a Guido che ha organizzato l'evento, grazie al mio amico Damiano, ciao Damiano se stai guardando, che mi ha fornito i manichini sui quali lavorare. Ora niente, io mi sto stasera a lavorare il primo di 7 manichini che fanno parte di un'installazione che riguarderà la condizione umana della solitudine, quindi è un argomentino un po' pesante, però vedrete che il risultato sarà ottimo. Buona visione a tutti, io comincio. Come tu fai i tagli, si toglie quello che ti ricordo. E poi sono fortemente, lo cazzo sono qui. No, il mio dono deve essere un'altra posta, che è un'altra posta, che è un'altra posta. E' un'altra posta. E' un'altra posta. E' un'altra posta. E poi stai guardando la scuola sulla scuola. E' un'altra posta. E' un'altra posta. E' un'altra posta. Noi vediamo le so אנחנו saranno un po' più storte. Che ce ne saranno? e poi si lascia un manichino e poi si lascia un manichino quando è che li lasci un manichino? io lo porto bene sabato questo questo? quello meno? si in dodo allora portalo a me si portalo due che è meglio ok va bene Bruno va bene va bene va bene va bene va bene va bene mi piace i soldi, oh, favolo, favolo, guarda bene. Mi ha così, te ne sbagliati, piaccia un senso, non manchierà. Se avessi coraggio, se avessi di tutto il porto, ho avessi coraggio, si avessi coraggio, ma se avessi coraggio, se avessi coraggio, e non è un po' di capire. Non stai così, non si tratta, e non è un po' di capire. Non è un po' di capire, ma è un po' di capire, ma è un po' di capire, che non è difficile incontrare chi lo guardiamo a fare, perché si è iniziato a fare, e non è un po' di capire. Stai passando il porto, andiamo a fare il porto! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.